Una fotografia tra luci e ombre per le marche, quella che emerge dal ventitresimo rapporto ecosistema scuola di Lega Ambiente, indagine sulla qualità dell'edilizia scolastica e sulla sicurezza scuola. I dati ci parlano della realtà marchigiana in linea con la situazione nazionale, con territori più o meno virtuosi, ma con un ritardo nelle certificazioni di agibilità, che sono solo l'11% del totale contro il 50% della media italiana. Sono inoltre poco meno della metà quelle che non hanno il certificato di prevenzione incendi, mentre va meglio per l'accessibilità agli edifici, che supera l'80%. In una regione a rischio sismico medio-alto, sono 138 gli edifici scolastici che si trovano in zona sismica 2, che comprende la maggior parte del territorio regionale, ma a realizzare la verifica di vulnerabilità sismica sono state il 66% delle amministrazioni. Solo le province di Anconefermo lo hanno fatto su tutti gli edifici scolastici. Quella di Macerata, negli anni, ha dimostrato una buona attenzione alla sicurezza per le scuole, mentre Pesaro è stata la provincia che ha saputo ricepire al meglio i fondi per l'edilizia scolastica. Da quella scolana ci si aspetta un cambio di passo per il prossimo rapporto, in un momento cruciale per la riqualificazione e la sicurezza, grazie alla disponibilità delle risorse del PNRR. Questo momento è un momento giusto da portare avanti, sia proprio perché ci sono i fondi del PNRR che ci permettono di poter efficientare anche a livello sia energetico ma soprattutto di sicurezza le nostre scuole, sia una buona cultura anche della cittadinanza che ci permette di poter osare un po' di più sui temi ambientali che coinvolgono le strutture scolastiche. E nel tema della sicurezza e della sensibilizzazione rientra anche l'alternanza scuola-lavoro, una delle attività più importanti per cogliere appieno il significato di quanto appreso in classe, funestata anche di recente da gravi incidenti che richiedono interventi a tutela degli studenti. Ovviamente le tragedie che ci hanno accompagnato, di cui siamo tutti a conoscenza, non sono accettabili, così come non sono accettabili ancora i numerosi morti sul lavoro che ci sono quotidianamente. Quindi queste attenzioni e queste sicurezze devono necessariamente poterci essere.